Ciao a tutti belle e brutti dal vostro Cristian De Hares eccoci tornati con la storia di One Piece Talser Cruise. Allora siamo arrivati alla isola di Angel Island, iniziamo dal primo livello non so quanti livelli siano presumo 15, 12, no 7, vabbè direi di partire col primo. Perfetto, eccoci qui non revince la faccia con questo team ma vi c'è la faccia e no cazzarola c'è 5.700 di HP, porco due qua allora 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 Grazie a tutti. Perfetto, c'è fatto. Provo a cambiare un attimo il team perché mi sa che questo non va bene. Perfetto, qui ci torniamo con il secondo capitolo che ha una stamina inferiore rispetto al primo, quindi il secondo livello. Poco abbiato il team, ho messo Eneru perché da quanto ho capito bisogna avere i personaggi dell'isola in sostanza. Per fortuna avevo qualcuno, quindi Eneru teoricamente era il sovrano di quella roba lì, quindi dovrebbe andare bene. Scegliamoci un altro Eneru così per sicurezza e partiamo con il livello. Ok, eccoci tornati. Adesso va un pochino, diciamo, un pochino meglio anche perché comunque l'unica nota negativa è Doflamingo perché non ci sta con questo stage, però comunque è Amen, me ne fanno una ragione. Per fortuna avevo qualche personaggio che mi serve, poi 4 bene. Intanto iniziamo a massacrarli. Per fortuna avevo qualche personaggio che mi serve, poi è un pochino 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 che mi serve. Bene, è già il boss, vediamo un po' chi è, ma è due, sono il più scemo. Vabbè, tanto si piangono le corna. Perfetto, finito. Direi di lasciarlo così in team, non mi vado a cercare un altro personaggio, continuiamo comunque con altri tre episodi. Eccoci qua, allora partiamo. Grazie. 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 perfetto già finito niente ci vediamo col quarto livello perfetto eccoci qui al quarto livello di 5 l'infermio al quinto davanti via un po piaccia e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Beh, sono già il boss, quindi... velocissimo. Perfetto, è finito anche questo. Ci vediamo al quinto livello e l'ultimo di questa prima parte. Perfetto, abbiamo un po' intanto ancora nessuna gemma in regalo, un po' spiroci in questi livelli, quest'isola. Perfetto, abbiamo un po' spiroci. Perfetto, abbiamo un po' spiroci. Perfetto, abbiamo un po' spiroci. perfetto già il boss perfetto fatto anche questo ora ragazzi questo primo capitolo di questa isola direi che è giunta a conclusione quindi se il video vi è piaciuto bel pollicione e ci vediamo con il prossimo video ciao ragazzi